Bene, bene, merluzzo gratinato. Il merluzzo è triste come la mia ricrescita, ma insieme alle zucchine provatelo, è pazzesco. È velocissimo, basta grattugiare le zucchine, strizzarle, condirle con aglio, sale, pepe, prezzemolo e limone. Coprirci i merluzzi, pan grattato per la super crosticina, forno violentissimo in 20 minuti, ve lo mangiate. Stavo per metterci anche il parmigiano sopra, ma ho avuto paura. Nutrientissimo, divertentissimo, eppure i bambini lo mangeranno volentieri.